Sono già iniziate nel Pescara le grandi manovre in vista della prossima stagione. Svanite le residui e possibilità di sperare in una salvezza che già da tempo appariva lontanissima, si guarda a quello che sarà il prossimo torneo di Serie B. La certezza riguarda la guida tecnica affidata a Zeman. Il Boemo chiederà di fare piazza pulita nella prossima estate in sede di mercato. Saranno pochissimi i reduci di questa sciagurata stagione. Tanti invece i volti nuovi. Il primo dovrebbe essere il bomber della San Benedettese Leonardo Mancuso, 18 gol fino ad oggi e autore di un poker di reti nella gara di Bolzano con il Sud Tirol. L'attaccante sarebbe ad un passo dall'accordo con il Pescara che gli farà firmare un contratto triennale. Il Delfino ha messo gli occhi anche sul giovane difensore della Roma Arturo Calabresi quest'anno in Serie B nel Brescia. Il 21enne difensore di cui si dice un gran bene potrebbe davvero fare al caso dei biancazzurri così come l'altro centrale del Bari Elio Capradossi. Il Pescara di Zeman vedrà diverse novità. Piace infatti anche Luigi Carillo ai tante difensore classe 96 che milita nella Paganese. E poi spazio ai ritorni dei giocatori di proprietà del Pescara che sono in prestito in Serie B. Due su tutti. Nicastro che tornerà in Abruzzo dal Perugia ed il portiere Pigliacelli dal Trapani. Dell'attuale Rosa hanno chance di restare anche il prossimo anno alla corte di Zeman Benali, Crescenzi, Vitturini e Fiorillo legato da un altro anno di contratto con la società adriatica. Richiestissimo dalle Big di Serie A il giovane centrocampista diciottenne senegalese Koulibaly messo sotto contratto la scorsa settimana. Intanto i biancazzurri torneranno domani al Poggio degli Ulivi per iniziare a preparare la gara casalinga di domenica prossima con l'Udinese di Gigi Del Neri.